chi si è trovato sicuramente forzato a oh, da domani si fa così sono i professori studi in ingegnere elettronica mi aspettavo che fossero più preparati di me perché talvolta e invece c'è delle robe però non capisco perché mettono gli sfondi finti tipo su Teams è una cosa che odio ma è una cosa che odio ma è una cosa che c'è il green screen dietro però è astuto perché una volta c'è più ma non lo usa ma non usa lo sfondo preimpostato di Teams che ti sembra essere tipo nel mondo di Minecraft che trova vulcani dietro ma che stia?